Grazie a tutti i telespettatori di CatalanTV. Apriamo il Tg con la situazione Covid ad Alghero. Positivi in leggero aumento in città. Nell'aggiornamento dato ieri dalla TS sono 165, dunque 6 in più rispetto al precedente rilevamento di questi. 11 si trovano ricoverati in ospedale. In compenso scende il numero di persone in quarantena che sono 259. Ovviamente situazione sempre da monitorare con il sindaco Conoci che in questi giorni ha raccomandato massima responsabilità e prudenza. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale anche nel Lab del Mariotti nel giorno di apertura. Quindi sabato sono state vaccinate 350 persone. Lunedì invece giorno di Pasquetta 450, quindi 463 martedì e 540 ieri. Un trend in crescita con il dottor Greco che aveva parlato della possibilità di arrivare anche a 1.000-1.200 dosi al giorno. Per adesso nei primi quattro giorni di attività sono state inoculate 1.803 dosi del vaccino. Ma si confida, come detto, di accelerare gradualmente. A livello regionale invece nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6.691 dosi. Un numero ben lontano dal target delle 17.000 quotidiane fissate per fine mese dal Commissario Nazionale per l'Emergenza e il Generale Figliuolo. Altri dati sono quelli del bollettino dell'unità di crisi regionale. Ieri 263 nuovi casi a fronte di 6.599 tamponi eseguiti ed un contasso di positività del 3,9%. Si sono registrati anche 5 decessi purtroppo, ma in compenso c'è stata una frenata nei ricoveri in ospedale. Tre in meno i pazienti nei reparti ordinari Covid che ora sono 297. Restano 47 invece i ricoverati in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare attualmente sono 15.649, 105 infine i guariti registrati nella giornata di ieri. Restiamo sulla sanità. Intanto all'ospedale civile sono iniziati i lavori nei giorni scorsi di ristrutturazione messa in sicurezza totale del quarto piano. Nello specifico parliamo del reparto di urologia. Un'eccellenza diretta dal dottor Tedde penalizzata nel passato che per delicatezza ed indecenza degli interventi, tumori dell'apparato urinario e genitale, va valorizzata e sostenuta, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che ha effettuato un sopraluogo previsti lavori inoltre anche nel reparto di pediatria e nei locali della camera mortuaria. I pazienti del reparto Covid-19 dell'ospedale Marino di Alghero invece potranno finalmente incontrare i propri parenti e familiari all'interno della nuova stanza degli abbracci. La struttura, allestita grazie all'impegno di un gruppo di imprese locali, che da diverse settimane lavorano in stretta sinergia con l'azienda, verrà utilizzata a partire da sabato prossimo. Siamo felici e abbiamo lavorato tanto per mettere a disposizione dei nostri assistiti una stanza degli abbracci, un luogo dove dopo tanta sofferenza possano sentirsi finalmente vicini ai propri cari, protetti e soprattutto amati. Un'area nella quale la presenza e il coraggio trasmesso dai familiari attraverso un telo trasparente può sommarsi alla terapia farmacologica e aiutare i pazienti a reagire contro questo virus che costringe dei genti a lunghi periodi di solitudine, afferma la coordinatrice del reparto Covid-19 dell'ospedale Marino, Salva Piras. Si tratta di uno strumento semplice e sicuro, capace di ridurre il senso di isolamento e smarrimento per nare nuova forza e vigore nella lotta contro il Covid-19. La stanza degli abbracci è stata allestita al piano terra del nosocomio in un'area all'aperto, adiacente all'ingresso dedicato ai pazienti Covid-19. Il luogo scelto garantisce la massima sicurezza dei familiari che in questo modo non entrano mai all'interno delle zone rosse dell'ospedale. L'area è accessibile da un degente per volta e prevede la predisposizione di tre tipologie e altezze di abbraccio, pensate per i pazienti in barella, per i pazienti in sedia a rotelle e per i pazienti in piedi. Le modalità di accesso dei visitatori, segnalate da una cartellonistica apposita, sono state disciplinate dalla Direzione Sanitaria del Presidio in accordo con il coordinamento del reparto, così come quelle dei pazienti che per raggiungere l'area degli abbracci devono transitare lungo un percorso a loro dedicato. Ringraziamo di cuore tutte le persone, le maestranze e le imprese che in modo completamente gratuito hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto, aggiunge Salva Piras. Grazie alla loro dedizione, al loro impegno, da sabato i nostri pazienti si sentiranno meno soli nell'affrontare questa malattia. L'allestimento della stanza degli abbracci è stata realizzata da AR, del dottor Antonio Rubattu, consulenze tecniche in materia di sicurezza, allestire di Daniele Serra, allestimenti, la tapezzeria di Cristian Bardino, portizioni in PVC, mouse artigrafiche di Antonio Fois, studio dell'immagine, all digital di Pier Alvise Gnolu, stante digitali. E chiudiamo l'ampia pagina dedicata al Covid e alla sanità e parliamo del caso Punta Giglio, perché ieri si è svolta l'attesa Assemblea del Parco per i vertici dell'ente, ma anche per i rappresentanti della cooperativa Quinto Elemento è stata l'occasione per ricostruire l'iter e parlare del progetto. Sino alle 9 di sera si è discusso della questione riguardante la progettualità affidata in concessione dall'Agenzia del Demanio alla cooperativa Quinto Elemento tramite bando pubblico presso l'ex batteria militare di Punta Giglio. Dopo l'introduzione del presidente Raimondo Tilloca e del direttore Mariano Mariani, che hanno illustrato alcuni aspetti centrali della vicenda, andando a ricostruire il percorso storico e la piena legittimità procedurale dell'iniziativa, conclusasi con l'autorizzazione unica del Comune di Alghero, si è aperta la discussione. In un clima di dialogo costruttivo i componenti dell'Assemblea hanno posto i loro quesiti al direttivo e i rappresentanti della cooperativa Quinto Elemento, presente con Matteo Mangili e col progettista Stefano Govoni dello studio Pixel, che hanno replicato punto su punto ricostruendo un quadro che ha consentito una più ampia e chiara rappresentazione di tutte le questioni aperte che nei giorni scorsi avevano suscitato preoccupazioni nella comunità algherese. In particolare è stato posto l'accento sul fatto che il bene e l'intera area restano pubblici, aperti a tutti, senza alcuna privatizzazione. Non nascerà alcun albergo di lusso esclusivo, ma un museo a cielo aperto e punto di storo con possibilità di alloggiare. Tutto questo, oltre a garantire massima tutela all'ambiente e natura circostanti, come indicato dalle prescrizioni dei principali enti a venti titoli a rilasciare le autorizzazioni, oltre al parco, gli uffici regionali dell'assessorato dell'ambiente, la sovrintendenza, l'ufficio tutela del paesaggio e competenti uffici del Comune di Alghero. L'Assemblea, che continuerà nei prossimi giorni, anche con gli altri punti all'ordine del giorno ancora da discutere, ha messo in luce il tema centrale riguardante il binomio tutela-sviluppo. In quest'ottica, e sempre più derimente, l'approvazione del piano del parco spetterà alla prossima Assemblea definire in modo puntuale l'iter di approvazione dello stesso piano ed eventualmente produrre un documento di indirizzo strategico sui temi centrali emersi nella discussione in merito alla compatibilità tra tutela ambientale e progetti di sviluppo del territorio. Ci fermiamo ora, facciamo la pausa consueta per la pubblicità tra poco. Trasporti in apertura di seconda parte del nostro telegiornale Continuità territoriale, aerea e marittima Realizzazione di opere infrastrutturali strategiche Voli Covid Tested Questi tre principali temi al centro dell'incontro di ieri a Roma tra l'assessore regionale dei trasporti Giorgio Todde insieme al parlamentare Eugenio Zoffili e il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli Abbiamo rappresentato la situazione complessiva in tema dei trasporti della nostra isola che vive gli effetti dell'insularità ulteriormente aggravati dalla crisi pandemica su cui è necessario intervenire per garantire la mobilità di cittadini e imprese ma anche per il rilancio e la valorizzazione del turismo in Sardegna ha dichiarato l'assessore Todde a margine della riunione. E' stata inoltre espressa la volontà di applicare la modalità di viaggio Covid Tested già sperimentata su altre rotte ovvero il diritto all'imbarco per chi presenta una certificazione di negatività al Covid-19 anche per i voli da e per l'isola aggiunto l'esponente della giunta Solinas soprattutto in prossimità della stagione estiva che permetterebbe ai viaggiatori di volare in totale sicurezza e di evitare un ulteriore sovraccarico di lavoro a tutto il personale sanitario impegnato non solo negli ospedali ma anche nelle aree di controllo di porti e aeroporti. L'assessore Todde altri si è annunciato l'impegno del viceministro di una prossima visita in Sardegna per verificare gli strumenti più efficaci da adottare per il rilancio del sistema trasporti. Semplificazione delle procedure conferma della proroga fino al 2023 attuazione delle previsioni della finanziaria 2020 per l'assunzione di tecnici ci sono le priorità dell'assessore all'urbanistica edilizia privata Emiliano Piras sul tema del bonus 110% che sta interessando gli uffici comunali col delinearsi di questa fase di avvio della misura. Ed in questi giorni un approfondimento del sole 24 ore sul bonus 110% che mette in evidenza quali siano i punti di forza e punti di debolezza del primo periodo di attuazione dopo il decreto che lo ha istituito. Anche in città si iniziano a vedere i primi interventi e altri ancora sono nel mezzo dell'iter autorizzativo. Le problematiche rispetto all'iter riguardano sicuramente le richieste per la determinazione dello stato di fattibilità che deve passare attraverso l'asservazione di conformità dello stabile soggetto all'intervento. Proprio questa parte dell'iter che prevede un accesso agli atti ed eventuali procedimenti che vadano a sanare eventuali abusi laddove possibile è inevitabilmente lunga e onerosa l'auspicio prosegue Piras e che, come annuncia anche l'articolo il meccanismo venga semplificato dal prossimo decreto così come possa essere confermata la progroga almeno fino al 2023 e che, per aiutare gli uffici tecnici dei comuni inevitabilmente in affanno per la grande mole di lavoro il governo acceleri per attuare la previsione della finanziaria del dicembre 2020 che dovrebbe permettere l'assunzione di tecnici negli enti locali proprio per le pratiche del bonus 110%. Torna a Sassari dopo il successo dello scorso anno Fame Lab contest internazionale di comunicazione della scienza che coinvolge centinaia di giovani ricercatori in tutto il mondo l'Università di Sassari avrà il compito di organizzare la tappa regionale che vivrà nella finale del 29 aprile il suo momento culminante le iscrizioni sono state prorogate fino al 21 aprile per dar modo alle tante persone interessate di partecipare i due vincitori accederanno alla finale nazionale di giugno a Catania i più meritevoli potranno conquistarsi il diritto di gareggiane nella competizione internazionale tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni si possono reperire sul sito dell'Università di Sassari Fame Lab offre a giovani ricercatori e studenti in possesso almeno di una laurea triennale la possibilità di parlare in pubblico per mettersi alla prova come divulgatori di tematiche scientifiche la sfida è quella di sviluppare una narrazione convincenti e appassionante in una presentazione di soli tre minuti le presentazioni saranno valutate da una giuria qualificata nel rispetto delle restrizioni sanitarie in preparazione alla selezione l'Università di Sassari con i partner Psi Quadro coordinatore di Fame Lab Italia e Cine Arena ha organizzato due masterclass online sulla comunicazione scientifica e il public speaking la formazione è gratuita proseguirà con un terzo webinar aperto a tutti gli interessati il prossimo 15 aprile ed un corso mirato per gli iscritti a partire dal 22 aprile volto a consentire ai partecipanti al Fame Lab di acquisire le competenze necessarie per realizzare appunto una presentazione convincente Amlallium di una flor pubblicato a dicembre 2020 primo disco da solista di Jasmine Bradi cantante algherese con una lunga e premiata carriera musicale che ha deciso di registrare una raccolta delle canzoni più rappresentative della tradizione algherese catalana, mallorchina e valenziana la presentazione ufficiale del disco è programmata con un concerto che si terrà proprio questa sera all'Harlem Jazz Club di Barcellona durante il festival internazionale della canzone Barna Sanz e in collaborazione con la plataforma per la lingua che lavora con il festival per promuovere gli scambi tra artisti algheresi e gli altri colleghi provenienti appunto dai territori lingua catalana la cantante recentemente premiata col premio Donna Fidapa con questo disco cerca di ristabilire attraverso la canzone tradizionale algherese interpretata con gusto eleganza e grande personalità il vincolo con la propria terra d'origine l'uso di strumenti acustici in questo lavoro non è casuale nel disco sono contenute anche tre composizioni di autori contemporanei come per esempio la Neu scritta da Bradi con Francesco Ballone con la quale si è giudicata il premio Pino Piras e un prestigioso secondo posto ai premi Andrea Parodi del 2010 l'11 aprile Jasmine Bradi tornerà ad esibirsi a Barcellona ma in duo con il pianista Riccardo Pina lo farà sul palco virtuale dell'Associo Stream Festival un evento di tre giorni in streaming organizzato dall'Associazione del Sosardos in Catalunia ed è tutto la musica chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale vi lascio al meteo grazie per averci seguito arrivederci